Immagina un calore avvolgente. Immagina di poter dimenticare lo stress di tutti i giorni e di ridurre i segni del tempo. Immagina il delicato tocco GEA, un pennello caldo e morbido che nutre e ringiovanisce la tua pelle. Burri, detergenti e nutrienti, oli idratanti per il viso. Dona alla tua cliente un momento di relax grazie alla tecnica del pennello caldo GEA. Immerge e scarica l'eccesso. Puoi scivolare il pennello sulla pelle aumentando la sensazione di calore. Immagina l'intensa sensazione di piacere. Maschera la paraffina arricchite di oli essenziali per il viso. Immagina il profondo benessere. Maschere all'argilla. Massaggio del cuoio capelluto. Immagina ogni singolo dettaglio. Cera senza strisce per la depilazione. Immagina l'effetto. Quale prodotto sceglieresti? Immagina l'intensa sensazione di calore. Immagina l'intensa sensazione di calore. Immagina l'intensa sensazione di calore. Immagina l'intensa sensazione di calore.